Piper Piper non ne sapeva granché del Mediterraneo, ma di una cosa era certa. La temperatura non avrebbe dovuto essere così gelida a luglio. Due giorni dopo che avevano levato l'ancora da spalato, nubi grigie inghiottivano il cielo. Il mare era agitato e una fredda pioggerella innaffiava il ponte, formando del ghiaccio sui parapetti e le sartie. «È lo scettro!» mormorò Nico, sollevando l'antico bastone. «Non può essere altro!» Piper era perplessa. Da quando Jason e Nico erano tornati dal palazzo di Diocleziano, si comportavano in modo nervoso e circospetto. Doveva essere successo qualcosa di grosso, qualcosa che Jason non voleva raccontarle. Che lo scettro avesse provocato quel cambiamento di clima aveva senso. La sfera nera sulla sommità sembrava prosciugare ogni colore dall'aria. Le aquile dorate che la sostenevano emanavano una luce fredda. A quanto ne sapevano, lo scettro era in grado di controllare i morti. Di sicuro diffondeva vibrazioni negative. Edge gli aveva dato un'occhiata, era sbiancato e aveva annunciato che sarebbe andato nella propria stanza a consolarsi con i video di Chuck Norris. Anche se in realtà Piper sospettava che inviasse messaggi iridi alla fidanzata Melly. Negli ultimi giorni il satiro si era comportato in modo bizzarro, ma non aveva voluto raccontarle il perché. Sì, forse lo scettro poteva provocare una tempesta di ghiaccio anomala. Solo che Piper non era convinta. Temeva stesse accadendo qualcos'altro. Qualcosa di ben più grave. Non possiamo parlare quassù, disse Jason. Rimandiamo la riunione. Mentre si avvicinavano all'epiro, si erano tutti radunati sul cassero di poppa per discutere di strategia. Però non era il luogo adatto, non in quel momento. Il vento sollevava la brina sul ponte. Il mare sotto di loro ribolliva. Le onde non davano molto fastidio a Piper. Il rollio e il beccheggio della nave le ricordavano il surf con il padre lungo la costa della California. Ma Hazel non stava per niente bene. Lei che soffriva di mal di mare anche in acque calme. In quel momento sembrava sul punto di ingoiare una palla da biliardo. Devo... Hazel ebbe un conato di vomito, indicò in basso. Sì, vai. Nico le diede un bacio sulla guancia. Piper era sconcertata. Nico non faceva quasi mai gesti affettuosi, neanche nei confronti della sorella. Detestava il contatto fisico. Baciare Hazel, poi, era quasi come se le stesse dicendo addio. Ti accompagno giù. Frank mise un braccio intorno alla vita di Hazel e l'aiutò a scendere le scale. Piper si augurò che l'amica si riprendesse. Nelle ultime notti, dopo il combattimento contro Cironi, avevano fatto delle belle chiacchierate insieme. Essere le uniche due ragazze a bordo era un po' complicato. Si erano raccontate molte cose, si erano lamentate delle cattive abitudini dei maschi e avevano versato qualche lacrima per Annabeth. Hazel le aveva spiegato che sensazione le dava controllare la foschia e Piper era rimasta sorpresa di quanto somigliasse all'uso della lingua maliatrice. Così si era offerta di aiutarla. In cambio, Hazel le aveva promesso di addestrarla a combattere con la spada, attività in cui la figlia di Afrodite era una schiappa di proporzioni colossali. Piper era convinta di aver trovato una nuova amica. Fantastico! Sempre che fossero vissute abbastanza da godersi quell'amicizia. Nico si tolse del ghiaccio dai capelli. Guardò torvo lo scettro di Diocleziano. Dovrei mettere via questo coso. Se è davvero lui a provocare questo tempaccio, forse portarlo sotto coperta servirà... Certo, disse Jason. Nico lanciò un'occhiata a Piper e Leo, come se fosse preoccupato di quello che il figlio di Giove avrebbe potuto dire in sua assenza. Piper percepì che Nico stava erigendo barriere difensive, come se a livello psicologico si raggomitolasse su se stesso, similmente a quanto aveva fatto nella giara di bronzo. Studiò l'espressione di Jason. Sembrava preoccupatissimo. Cos'era successo in Croazia? Leo estrasse un cavatappi dalla cintura. Alla faccia della riunione della squadra al gran completo. Sembra che siamo rimasti solo noi un'altra volta. Solo noi un'altra volta. Piper ripensò a una gelida giornata di dicembre dell'anno prima a Chicago, quando loro tre erano atterrati nel Millennium Park per la loro prima missione. Leo non era cambiato molto da allora. A parte il fatto che sembrava più a suo agio nel ruolo di figlio di Efesto. Aveva sempre avuto troppa energia. Adesso però sapeva come utilizzarla. Non teneva mai le mani ferme e tirava fuori di continuo gli attrezzi dalla cintura, controllava i comandi o giocherellava con l'amata sfera di Archimede. Quel giorno l'aveva tolta dal pannello di controllo e aveva messo Festus in manutenzione. Doveva ricablare il processore della polena per settare il motore di comando con la sfera, qualunque cosa significasse. Jason invece era più magro, più alto e più pensieroso. I capelli che prima portava rasati in stile romano adesso erano più lunghi e disordinati. Anche il solco che Shirone gli aveva lasciato sul lato sinistro del cranio era intrigante, quasi un tocco da ribelle. I suoi geli di occhi azzurri sembravano più maturi, pieni di preoccupazione e responsabilità. Piper sapeva cosa gli altri mormoravano sul suo conto. Era troppo perfetto, troppo rigido. Se mai fosse stato vero, ormai non lo era più. Ne aveva passate di tutti i colori durante il viaggio, e non solo a livello fisico. Le difficoltà non lo avevano fiaccato, ma Jason era stato conciato e ammorbidito come il cuoio, come se stesse diventando una versione più tranquilla di se stesso. E lei? Piper poteva solo immaginare cosa pensassero Leo e Jason quando la guardavano. Senz'altro non si sentiva la stessa persona dell'inverno precedente. La prima missione per salvare Hera sembrava risalire a secoli prima. Erano cambiate così tante cose in sette mesi. Si domandò come facessero gli dèi a sopportare di vivere migliaia di anni. Quanti cambiamenti avevano visto con i loro occhi. Non era poi tanto strano che gli dèi dell'Olimpo fossero un po' folli. Si disse Piper. Se lei avesse vissuto tremila anni sarebbe diventata matta. Fissò la pioggia fredda. Avrebbe dato qualsiasi cosa per essere al campo mezzo sangue, dove il tempo era controllato perfino d'inverno. Le immagini che aveva visto sul pugnale negli ultimi giorni... Beh, non le offrivano molto conforto. Jason le strinse una spalla. Ehi, andrà tutto bene. Siamo vicini all'epiro ormai. Un altro giorno, più o meno, se le indicazioni di Nico sono corrette. Esatto. Leo giocherellava con la sfera, dando dei colpetti a una delle gemme sulla superficie. Entro domani mattina raggiungeremo la costa occidentale della Grecia. Poi un'altra ora nell'entroterra e... Bang! La casa di Ade! Voglio prendermi la maglietta! Evviva! Borbottò Piper. Non aveva molta voglia di tuffarsi di nuovo nell'oscurità. Aveva ancora gli incubi per il Ninfeo e l'Ipogeo di Roma. Sulla lama di Catoptris aveva visto immagini simili a quelle che Leo e Hazel avevano descritto raccontando i loro sogni. Una pallida maga vestita d'oro, che tesseva luce dorata nell'aria come seta su un telaio. Un gigante avvolto nell'ombra, che attraversava a grandi passi un corridoio fiancheggiato da torce. Man mano che ci passava davanti, le fiamme si spegnevano. Piper aveva visto un'enorme grotta piena di mostri, ciclopi, figli della Terra, e creature ancora più strane, che circondavano lei e i suoi amici. La superiorità numerica era schiacciante. Ogni volta che vedeva quelle immagini, una voce nella sua testa continuava a ripetere un verso all'infinito. Ragazzi, ho pensato molto alla profezia dei sette. Non era facile distogliere Leo dal suo lavoro, ma quella frase ci riuscì. Allora, buone notizie spero. Piper si sistemò la tracolla della cornucopia. A volte il corno dell'abbondanza le sembrava così leggero da dimenticarselo. Altre invece pesava come un incudine, come se a Chielo, il dio del fiume, le stesse inviando pensieri negativi nel tentativo di punirla per averglielo portato via. Su Catoptris continuò a vedere il gigante Ecclizio, quello circondato dalle tenebre. So che il suo punto debole è il fuoco, ma nelle mie visioni spegne le fiamme ovunque vada. Ogni luce viene risucchiata dalla sua nube di oscurità. Tipo Nico, osservò Leo. Credi che siano parenti? Jason inarcò le sopracciglia. Dai, Leo, lascia stare Nico. Allora, Piper, cosa dicevi di questo gigante? Piper e Leo si scambiarono un'occhiata interrogativa della serie da quando in qua Jason difende Nico di Angelo. Ma la ragazza decise di non commentare. Continuò a pensare al fuoco, rispose. A come ci aspettiamo che sia Leo a sconfiggere questo gigante, perché è... Focoso e sexy? Suggeri lui con un sorriso ironico. Direi più... infiammabile. In ogni caso, il verso della profezia che mi preoccupa è... Fuoco, tempesta, il mondo cadere faranno. Sì, lo sappiamo bene, le garantì Leo. E adesso dirai che io sono il fuoco e Jason la tempesta. Piper annuì a malincuore. Sapeva che a nessuno di loro piaceva parlarne. Ma tutti avevano intuito che le cose stavano così. La nave beccheggiò a tribordo. Jason si aggrappò al parapetto ghiacciato. Hai paura che uno di noi due metta a repentaglio la missione? Che accidentalmente distrugga il mondo? No, rispose Piper. Penso che finora abbiamo letto quel verso nel modo sbagliato. Il mondo. La terra. In greco si direbbe... Esitò. Non voleva pronunciare quel nome a voce alta, neanche in mare. Gea. Gli occhi di Jason si accesero d'improvviso interesse. Vuol dire... Fuoco, tempesta, Gea, cadere faranno? Oh! Il sorriso di Leo si allargò. Sai, mi piace molto di più la tua versione. Perché se Gea cade per mano mia, Mr. Fuoco è assolutamente perfetto! Oh, per mano mia! Tempesta! Jason la baciò. Piper è magnifico! Se hai ragione tu, è una notizia fantastica! Dobbiamo solo capire chi di noi due distruggerà Gea. Può darsi. Piper si sentiva a disagio ad alimentare le loro speranze. Ma dice fuoco, oh tempesta! Sfoderò Catoptris e lo appoggiò sulla console. La lama tremolò all'istante, mostrando la sagoma oscura del gigante Eclizio che si spostava lungo un corridoio, spegnendo le torce. Sono preoccupata per Leo e per il combattimento contro Eclizio, disse. Stando al verso della profezia, sembrerebbe che solo uno di voi possa farcela. E se la parte sul fuoco o la tempesta è collegata al verso, con l'ultimo fiato un giuramento si dovrà mantenere e... Non concluse la frase, ma dall'espressione dei ragazzi, intuì che avevano capito. Se Piper stava interpretando bene la profezia, uno dei due avrebbe sconfitto Gea. L'altro sarebbe morto.